Franchini, tornato in campo dopo tanto tempo per l'infortunio, è chiaro che un finale così non si augura neanche al peggior nemico. No, no, l'unica cosa per cui sono contento è di essere tornato oggi in campo. Non giocavo una partita dal primo minuto, dalla fine del campionato scorso. Abbiamo fatto a livello tecnico, tattico, una prestazione che sicuramente si può fare meglio, ma a livello di atteggiamento penso sia stata una delle partite migliori da inizio stagione. Quando metti questo atteggiamento in campo di partite ne perdi poche. Oggi c'è andata male, i punti che abbiamo perso oggi li riprenderemo più avanti che nelle prossime partite, sempre mettendo in campo questo atteggiamento. Cosa è successo secondo te nella prima mezz'ora? Perché il Perugia, anche se non ha mai impensierito a Plizzari, comunque vi ha messo in difficoltà. Sì, comunque il Perugia è una squadra partita per vincere il campionato, una squadra forte. Sono riusciti a trovare le trame di gioco, però io non mi ricordo che abbiano avuto occasioni. Noi abbiamo avuto due o tre occasioni, l'incrocio dei pali, il rigore. Poi alla fine purtroppo hanno avuto l'episodio dell'autogol.